Eccomi qua, sono tornato. Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene, spero che vi siate rilassati in questo weekend, spero che abbiate un po' metabolizzato il fatto che la Juventus tornerà tra tanto tempo, perché abbiamo ufficialmente concluso la nostra stagione, abbiamo alcuni giocatori che stanno pensando all'europeo, alcuni giocatori che stanno pensando al perché non vanno a fare l'europeo, abbiamo alcuni giocatori che stanno pensando al futuro, abbiamo alcuni giocatori che semplicemente si stanno godendo il momento. Come sempre al termine di una stagione ci sono tante linee guida, tanti modi di ragionare, di analizzare quello che è andato, che ha funzionato, che non ha funzionato. Io sono tornato ieri da Torino, dove ero presente per assistere a Juventus Monza 2-0, una partita che ho definito divertente, una partita che ho definito anche come l'ultimo giorno di scuola. Avete presente, vi ricordate quando c'era l'ultimo giorno delle scuole elementari e magari vi facevano giocare in giardino più tempo del previsto, c'era il sole, si respira proprio quell'aria del termine di un ciclo. Ecco, mi ha dato quell'impressione lì, quelle cose che a livello lavorativo non si possono più vivere, perché anche d'estate poi si continua a lavorare, o comunque non tutti i lavori, ma ci sono anche quei lavori, la maggior parte che proseguono per tutto l'anno, non sono stagionali, mi ha dato veramente quell'impressione lì Juventus Monza. Una sorta di tana libera a tutti. Una sorta di tana libera a tutti dove abbiamo avuto anche delle emozioni, perché io devo dirvi la verità, tra l'addio di Alessandro e il giro della Coppa Italia mi sono emozionato. Un Alessandro che sappiamo che è da anni che deve lasciare la Juventus, sappiamo che è da anni che il livello di Alessandro non era più accettabile per essere titolare della Juve. Eppure tutti questi anni di bianconero li senti, li senti tutti, a maggior ragione se raggiungi Pavel Nedved in cima al giocatore straniero con più presenza nella storia della Juve, e soprattutto se piangi per la maglia. Io, calciatore che piange per la Juve, non posso fare altro che apprezzarlo. E sarà sempre così, perché quando metti sudore, lacrime e voglia per la Juventus significa tutto, significa aver dato tutto. Vi dico la verità, mi è piaciuto molto il clima dello stadio nel salutare Alessandro. Avevo paura, ero preoccupato, potessero esserci fischi e robe del genere per un giocatore che sì, ha la colpa di non essere più atleticamente allo stesso livello o mentalmente così stabile come era prima. Quella è la colpa di Alessandro, quindi non è una colpa ovviamente, è un discorso relativo al fatto che gli anni passano in maniera diversa per i calciatori. E' stato più il problema di andare anche oltre per un discorso contrattuale con il rinnovo automatico dell'anno scorso e tutte queste cose qui. E vi dico la verità, io sono convinto che questo addio ad Alessandro sia stato, si sia arrivato in questo modo qua per un motivo, e cioè non aver superato Nedved, essere arrivato al massimo al pari. Io sono davvero convinto per quello che è stato Pavel, per quello che ha fatto Pavel per la Juve, che se avessimo visto Alessandro sopra Nedved dal numero di vista delle presenze non sarebbe stato così bello l'addio. E quindi sono contento che alla fine sia finito in questo modo, ve lo dicevo già nel pre-partita, poteva essere la soluzione intelligente ed è stata la soluzione intelligente. E' andata così. Voglio tornare un po' su una frase che ho detto in uno dei video che ho pubblicato dopo la partita, tra il post-partita e anche tra quello che è stato anche il video delle pagelle, un po' diverso dal solito, perché ho visto che nei commenti ha scatenato una sorta di mini dibattito. Io ho parlato tanto di entusiasmo, ho parlato tanto di gioia di essere allo stadio. Io sono tornato a casa, la prima cosa che ho detto alla mia ragazza è stata, a testuali parole, questa è stata una delle volte in cui mi sono divertito di più ad andare allo stadio, ma non tanto per la partita in sé. La partita in sé è stata un 2-0 contro il Monza, l'ultima giornata di campionato, noi abbiamo visto anche dei giocatori che magari avevano visto poco il campo, una formazione un po' sbarazzina e tutte queste robe qui. Per il clima, per l'ambiente. Per l'ambiente. È stata davvero una delle volte in cui ho respirato un'aria più positiva. E qualcuno mi ha scritto, ma come? Dalla TV questa cosa non si percepiva. La curva è stata zitta, ha fatto alcuni cori di incoraggiamento ai giocatori, agli allenatori, ad Allegri, tutta questa roba qui, ma non è stato un ambiente caldo come al solito. E la mia risposta è, sapevamo che la curva avrebbe approcciato la partita in quel modo. Ce l'aveva comunicato, c'era stato un comunicato, sapevamo che avevano i loro motivi per andare allo stadio e fare uno shopper, una protesta silenziosa. Tant'è che sì, lo stadio è stato molto casuale. Cioè, c'era dei tifosi che ogni tanto partivano supporto, applausi, core controizzo, robe del genere. Non c'è stata davvero l'organizzazione solita che c'è da parte degli ultra. No, questa roba è mancata, confermo, concordo con voi. Però io vi parlo di tutto il contorno, dei sorrisi che si vedevano sui volti dei tifosi juventini. Cioè, io ho visto finalmente i tifosi che tornavano a sorridere, che avevano gioia nell'essere lì. Io me le ricordo le facce prima e dopo Juventus Genoa 0-0, eh. Me le ricordo alla grande. Io c'ero, ero lì. Sembrava una giornata di lutto. Sembrava quasi un... Vabbè, vado allo stadio perché vado allo stadio. Le contestazioni sono venute soltanto a fine primo tempo e poi a fine partita. Ma già nel pre-partita si respirava, non so come spiegarvelo, però si respirava un'aria strana. Invece già nel pre-partita di questo Juventus-Monza si capiva che il tifoso della Juventus si stava preparando a salutare quello che è stato il passato, per tante motivazioni, e ad aprire verso un futuro differente. Ora, non è ancora arrivato il momento di parlare di calciomercato. Oggi pomeriggio voglio portarvi anche un contenuto diverso che non parla solo di Juve ma si intreccia perché parlerò di Milan e di Napoli e delle scelte relative agli allenatori. Quindi Fonseca e Conte voglio fare un contenuto di questo tipo e domani magari parliamo del calciomercato e domani facciamo anche una live qui su YouTube in cui ho già in mente due o tre robe come andare a vedere quelle che erano state le mie previsioni di gol, le mie previsioni di piastamenti. Ora che la classifica è completa, andiamo a vedere quella roba lì. Non è il momento di parlare di calciomercato. Però questa stagione ci fa salutare. Alessandro ci fa salutare. Allegri si sta parlando addirittura di Scesni. Cioè si sta tagliando quel cordone umbilicale che ci ha tenuti legati a quel concetto di Juventus vincenti del passato. Ora, ieri si è ritirato pure Bonucci, ok? Se vado a immaginarmi, anzi a ricordare quella che è stata l'ultima Juventus finalista di Champions, cioè Allegri in panchina, Buffoni in porta, Barzagli e Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Alessandro, Pjanic, Chedira, Di Bala, Manzuki, Chiguaín. Non ce ne sono più. Non ce ne sono più di quelli lì. Non ce ne sono più. È rimasto praticamente solo Rugani, così, a memoria, forse, di quel gruppo squadra lì, di quelle Juventus lì. Poi ovviamente, dopo è arrivato Scesni, sono arrivati tanti altri giocatori, però bene o male noi ci stiamo distaccando con forza da quella roba. Sta iniziando una nuova era per la Juventus a tutti gli effetti, cioè non c'è un altro termine, un altro modo per descriverla. E io credo che ai tifosi della Juve questa cosa sia piaciuta, e tanto. Si è piaciuto acclamare Ildis, si è piaciuto vedere Fagioli tornare, ma anche dei ragazzi che hanno giocato meno come UEA, Healing, Nicolussi, lo stesso Miretti. Cioè, io ho percepito che lo stadio era contento nel vedere questi volti, di questi giocatori che sono cresciuti e sono venuti su dalle giovanee della Juventus, addirittura Ildis che era stato allenato da Montero all'interno delle partite di primavera. Quindi sono state tutte cose belle. Poi Paolo Montero, ragazzi, il modo in cui c'è stato, ve l'ho messo nella live reaction di ieri, il saluto a Paolo Montero in uscita dal Geotè, dalla Continassa, è stato tutto troppo bello, ragazzi. Cioè, è stato tutto troppo bello. È stato veramente un pomeriggio juventino. Ho respirato veramente l'aria juventina. E io sto avvertendo che il tifoso della Juve aveva bisogno di questa bella boccata d'aria fresca. E credo che sia anche giusta questa boccata d'aria fresca nella scelta del nome del nuovo allenatore. Perché se fossimo andati nuovamente su Conte, probabilmente saremmo tornati a scontrarci, guerre ideologiche del passato, cicatrici chiuse, cicatrici aperte, ma lui se n'è andato, sì, ma lui ci ha fatto vincere, sì, ma è andato all'Inter, sì, però ha fatto il dito medio, sì, però si è pentito. Non ne avevamo bisogno uno di questa roba qui. Potevamo avere bisogno del profilo di Conte come allenatore? Sì. Perché per me il profilo di Conte come allenatore, quando le cose devi ricostruirle è perfetto, non avevamo bisogno del contorno. Oggi abbiamo veramente bisogno di ricompattarci, di ritrovarci, e io queste cose le ho avvertite. Io ho avvertito veramente tanta gioia di essere a vedere un Juventus Monza che nulla aveva a che vedere con la classifica, gli obiettivi, i piazzamenti. C'era una partita di calcio, un pomeriggio, un evento da vivere e divertirsi tutti insieme. Si è andati lì per quel motivo lì. È stato tutto troppo bello. È stato tutto troppo bello. Ora, siamo in attesa dell'ufficialità, di Tiago Motta, perché da lì bisogna ripartire. Io so che si è parlato nei giorni scorsi di un Tiago Motta che potrebbe essere annunciato a metà giugno. Io non ho informazioni, quindi queste sono informazioni di giornalisti. Penso, tra l'altro, mi diceva un altro giorno allo stadio che lo stesso Romeo, forse anche Giovanni Albanese avevano parlato a metà giugno. Io sarei stupito, non perché ho più informazioni di loro, io non ho informazioni. È proprio il mio ragionamento. Io mi aspetto comunque. Poi non so nemmeno se è confermata questa cosa. Sono chiacchiere che erano arrivate. Mi avete riportato voi fuori dallo stadio. Non ho avuto modo o tempo di verificare, perché tanto discorsi relativi di annunci, magari si può accelerare, si può decelerare. Prima leggero Fabrizio Romano che ha twittato diceva che a Tiago Motta sono stati consegnati tutti i documenti, ora vanno rivisti, vanno firmati e rimandati al mittente per un contratto triennale. Quindi poi vediamo se questa cosa sarà confermata. Quindi sulle tempistiche, secondo me, è sempre un po' difficile fare una previsione. Io mi immagino comunque già nei prossimi giorni un annuncio da parte della Juventus per Tiago Motta, appunto il tempo magari di dare una controllata con i legali a questo documento, a questo contratto, di firmarlo, di rimandarlo alla Juve. Poi l'annuncio, ecco, io mi immagino una roba di questo tipo qua. Dato che tanti mi avete chiesto, sì, ma secondo te quando l'annuncio? Ecco, io la vedo in questo modo. Però ci siamo, ragazzi. Ci siamo, abbiamo chiuso un capitolo, veramente un capitolo, e credo che sia determinante per inserarne uno nuovo rimetterci tutti lì, tutti nel calderone della Juventus, dello Juventino in generale. Perché noi da troppi anni viviamo di divisioni. Da Conte che ha portato divisioni, ad Allegri che ha portato divisioni, a Sarri che ha portato divisioni, a Ritorni di Allegri che ha riportato divisioni, le voci sul ritorno di Conte ha portato divisioni. Noi dobbiamo tornare a ragionare in binari Juve, e so che sarà difficile. A volte ho pensato anche potesse essere impossibile, ma io vi giuro, vi giuro, e magari chi era a vedere Juventus-Monza non lo può confermare, che io in quel Juventus-Monza lì ho respirato un'aria diversa. Un'aria diversa. Le facce dei tifosi erano diverse, l'entusiasmo era diverso, qualcuno che mi diceva sì, però c'ho dei dubbi legittimi, non sono qui a dirvi che Motta è il migliore allenatore del mondo, non lo penso neanche. Motta è un buon allenatore, ha fatto una buona stagione a Bologna, ha delle caratteristiche interessanti, mi fa piacere il suo arrivo, perché a livello meritocratico ha dimostrato di potersi meritare una panchina importante. Questa è la mia lettura, io non penso che Motta sia il Messia, io non penso che Motta arrivi e ti faccia palleggiare la Juventus come il Barcellona e Guardiola del tiki-taka, no, non sono cose che penso. Però penso che fosse necessario andare a prendere un volto nuovo, un volto inedito, un volto che vuole tornare a lavorare e io questa cosa qui, dei tifosi juventini, nelle facce, nel modo in cui parlavano, nel modo in cui esponevano i propri pensieri, perché abbiamo fatto tante chiacchiere fuori e dentro lo stadio, tutti voi, io ho percepito questo entusiasmo, questa voglia, questa gioia, questa boccata d'aria fresca. Davvero come adesso che ho chiuso le finestre per registrare, per avere la luce fatta bene, adesso tiro sulla tapparella, apro la finestra, una bella boccata d'aria, esattamente quello che ho percepito io in occasione di Juventus Monza. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, fatemi sapere se questa cosa l'avete percepita anche voi o se è stato tutto un mio viaggio mentale, può essere, non sarebbe il primo viaggio che mi faccio, però io sono tornato a casa con tanta gioia, tanta gioia, tanta felicità, tanta carica e tanta fiducia, tanta fiducia nella Juventus. Forza io ho i vecchi cuori bianconeri.